Il rettilineo è quella, la trappola. Il rettilineo lungo che a volte fa schiacciare sull'acceleratore e la strada diventa troppo stretta e quando si è inesperti si può sbagliare. Ci sono due morti adagiati sull'asfalto della provinciale che da San Pietro Vernotico porta a Brindisi. L'auto cappottata è una Ford Fiesta sulla quale viaggiavano cinque ragazzi di San Pietro. Alla guida c'era un diciottenne Luigi Marangio. È suo, il corpo estratto senza vita dai vigili del fuoco e coperto da un lenzuolo termico. I suoi parenti disperati sono sull'altro lato, non li fanno passare perché è necessario prima effettuare tutti i rilievi. Accanto all'altra auto, una Ford Focus che dopo lo schianto si è incastrata sul guardrail, c'è il corpo di Augustin Kona, 32 anni, originario del Ghana. Anche gli altri due uomini che viaggiavano con lui sono extracomunitari. Troppo presto per cercare di stabilire chi ha sbagliato nel momento in cui le auto si sono incrociate. Più avanti c'è anche una Peugeot coinvolta marginalmente nell'incidente. Dei quattro feriti trasportati all'ospedale Perrino, due sono gravissimi. Pare sedessero sul sedile posteriore della Ford Fiesta. Tre di loro sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia locale di San Pietro Vernotico e da quella di Brindisi, arrivata in supporto. Il magistrato di turno in procura, Pierpaolo Montinaro, ha disposto il sequestro dei tre mezzi coinvolti.